Ciao a tutti piccoli colletti e bentornati sul mio canale Oggi siamo qui su Brookhaven perchè oggi ragazzi ci vestiremo come Mario e Luigi in versione femmina Ho scelto versione femmina perchè il vero Mario servono dei baffoni ma quelli non li ho trovati Quindi ho deciso di fare versione femmina Ma prima di cominciare non vi dimenticate di iscrivervi al canale, cliccare la campanellina e mettere like a questo video E soprattutto non vi dimenticate che questi codici possono essere usati anche su Brookhaven eccetera In tutti i giochi in cui si possono usare dei codici per il vostro avatar Ma prima non vi dimenticate che il vostro avatar deve essere prima come noob perchè si va meglio a fare il vostro avatar con i codici Quindi iniziamo subito Ah mi stavo dimenticando anche che la faccia potete metterla qualsiasi Io sto usando proprio la mia perchè potete usare la vostra Quindi iniziamo con il primo codice E credo che il primo codice sia proprio dei capelli E il codice è 12319546774 Guardate i capelli mori stanno benissimo Guardate qui Magari il davanti è un po' più disordinato Però devo dire che ha proprio uno stile meraviglioso Quindi adesso passiamo subito al secondo codice Che sono per i pantaloni mi sembra E il codice è 1452087279 Perfetto! Ecco qua i pantaloni Ovviamente non si vedono tantissimi perchè sopra c'è questa maglietta Ma infatti adesso andiamo subito a mettere il prossimo codice 7656897088 Perfetto! Ecco qua la maglietta di Mario Guardate che bella rosa con una M gigante al centro della maglia Quindi adesso ragazzi manca solo il cappello Che è la cosa molto più importante perchè senza il cappello Mario non può essere maglietta 8349240186 Perfetto! Ecco qua un cappello gigante sopra la testa E guardate qui bello rosso Un rosso che si abbina tantissimo con tutta l'autista E questo è il risultato finale E' molto molto bello E mi piace tantissimo Mario è il mio personaggio preferito Ok? Quindi adesso passiamo a Luigi Iniziamo con il primo codice che sono le scarpe E il codice è 11206537657 Ed ecco qua abbiamo i nostri scarponi stivaletti Come li volete chiamare Perdi molto molto carini Adesso andiamo subito con il secondo codice Che è per la maglietta E il codice è 6200321119 Quanti ore ci sono qui? Ok questi codici sono pieni di 1 Ok andiamo subito con il prossimo codice Che è per i capelli molto molto carini E il codice è 11914580588 Ed ecco qua i capelli mori ovviamente con alcuni boccoli E sono molto molto carini Si abbinano molto anche con la maglietta Perfetto andiamo subito con l'ultimo codice che è per il cappello verde Ovviamente non può mancare perché come ho detto prima Luigi non può essere Luigi se non hai il cappello E il codice è 8165058540 E voilà il cappello un po' verde Ehm come dire non fluo ma molto molto acceso ed è illuminante E devo dire che rende questo outfit un po' più vivace E mi piace tantissimo ragazzi Quasi tutto verde lui Quindi adesso ragazzi devo dire che questi outfit mi piacciono moltissimo E ovviamente ragazzi non vi dimenticate di usare tutti questi codici Per non usare Robux Ed eccoci qua ragazzi con Luigi e Super Mario Si abbinano molto i vestiti Sembriamo quasi sorelle Solo che ci mettiamo in un modo un po' più diverso Devo dire che mi piacciono tantissimo questi outfit E non vi dimenticate di usarli se non avete Robux Adesso ovviamente questi codici possono essere usati in qualsiasi gioco In cui potete cambiare il vostro avatar con dei bellissimi codici E quindi adesso ci vediamo alla prossima con una nuovissima avventura Ciao ragazzi!